Buongiorno, oggi è il 27 di ottobre, sono le 8 e mezza oggi andrò a fare l'analisi su TradingView perché ho un problema con il mio broker e farò l'analisi con le candele daily come di solito e abbiamo l'aiuto anche delle medie di migliorino cicliche come potete vedere l'euro dollaro sul daily ieri ha fatto una candela negativa avevo detto che se non rompeva questa trendline non avrebbe continuato il log scusate che vado a tornare un istante non avrebbe continuato al rialzo, se vi ricordate avevo detto questo per il momento siamo ancora in una fase di lateralità vedete che i cicli sono per il momento laterali per il momento aspettiamo, se questo minimo fatto ha il 25 settembre tiene 1.1621, allora vuol dire che resteremo on long se dovesse romperlo, allora potrebbe continuare la sua diceva per il momento è laterale il GBPUSD anche qui ieri ha fatto una candela negativa vedete che questa resistenza ha tenuto per il momento qui, anche qui al momento siamo in una fase di lateralità anche l'annuale, per il momento anche qui adesso vedremo se questo minimo di 1.26751 tiene, che qui se dovesse romperlo potrebbe continuare la sua discesa per il momento anche qui vediamo cosa farà nella giornata di oggi la nostra sterlina per il momento non faccio niente perché soprattutto che come ben sapete adesso ci saranno le elezioni poi se guardate il dollaro yen dove io sono sempre dentro short per il momento la media 21 è rivolta verso il basso vedete che siamo in una fase di incertezza per il momento qui vediamo finché non rompe questo 104 vedete che qua è un punto di riferimento il trend rimarrà laterale staremo a vedere che cosa succede per il momento siamo in attesa il dollaro canadese, il dollaro canadese è lui laterale vedete che anche qui questo 1.29.942 è un punto di riferimento come l'1.34 se dovesse rompere questo allora potrebbe continuare a rialzo se dovesse rompere l'1.29 rimane per il momento siamo in una fase di short per il momento aspettiamo AUDUSD AUDUSD anche qui è rivolto verso il basso anche qui vediamo se 0.70, 0.59 tiene e se tiene anche il 0.71 o 2.431 per il momento come potete vedere voi stessi siamo in una fase di laterale vedete che per le elezioni che si è mosso più di tanto il dollaro messicano il dollaro messicano siamo sempre la media 21 sotto vedete che per il momento vediamo se andrà a prendere questo 20.49 per il momento siamo solo in una fase di come si chiama di ribassista per il momento qui dobbiamo aspettare prima di aprire posizioni 9 adesso vediamo se questo 20.83 sarà preso e se continuerà verso ai 20.49 poi andiamo adesso a vedere le crypto eccole qui andiamo a vedere il prima di tutto le Ethereum USD vedete che Ethereum USD la media un anno un mese scusate due mesi sembrano rivolte verso l'altro siamo sopra la media 21 per il momento anche qui abbiamo una forte resistenza che è questa vedete che è davvero matto ve la metto qua questo è un punto di possiamo dire questo 415 dollari se dovesse essere rotto allora potrebbe continuare andare a prendere il 488 per il momento il minimo fatto il 5 di settembre finché non rompe questo minimo inutile parlare di di shop per il momento potrebbe essere partito qua il semestrale il 22 il 23 di settembre staremo a vedere per il momento c'è incertezza poi il Bitcoin USD vedete che qui a differenza è già rivolto tutto verso l'alto il Bitcoin potrebbe continuare a salire adesso e andare a prendere un prossimo target attorno ai 14.000 per il momento il Bitcoin rimane long andiamo a vedere adesso il gold eccolo qua il gold come è la situazione sul gold il gold vedete che siamo in una fase di lateralità finché non rompe questo 1933 inutile parlare di long finché non rompe il minimo del 28 settembre 1848 vedete rimaniamo ancora in una fase di incremento di incertezza per il momento questi due siamo dentro in questo range per me dovrebbe ancora scendere anche se l'anuale rimane ancora long è quella che è la cosa più importante il petrolio lui invece vedete che ve lo faccio vedere il petrolio niente da fare siamo sempre in una fase laterale potrebbe rischiare di andare a prendere il 36 e 15 vedremo se dovesse rompere 36 e 15 allora potrebbe andare a prendere il 35 per il momento siamo anche qui in una fase di lateralità non ci sono le condizioni di entrata poi andiamo a vedere la soia la soia che ieri ha fatto un nuovo massimo vedete che lo vado a spostare vedete che la soia continua siamo ancora sempre in una fase non permetto inutile parlare di short permetto anche qui aspettiamo di vedere cosa succede io ormai non posso entrare al mercato perché mi ha preso lo stop approfitto però adesso aspetto il ritracciamento il copia andiamo a vedere il copper prima il gas il gas vedete che lui continua anche lui a rialzo è tutto rivolto verso alto prevento il gas sembra voler continuare la sua salita il copper invece lui si trova in una fase di adesso ribassista vedete che sembra voler scendere anche se rimane ancora il long permetto vediamo siamo sopra ancora la media 21 staremo a vedere per vento finché non rompe questa 3.9 questo supporto ribassista 2.83 è inutile parlare di short poi andiamo a vedere gli indici ecco l'indici il down jones come potete vedere ieri è crollato è andato a prendere questo nuovo fatto il nuovo minimo per il momento siamo in una fase laterale vediamo se questo 26.544 tiene per il momento qui questo è una chiusura di ciclo inutile parlare adesso di long per il momento siamo alla ventitresima candela rischia ancora di andare a prendere questo minimo per il momento qui aspettiamo poi ci sono le votazioni adesso è inutile aprire posizioni al rialzo il dax che vado a prendere il dax eccolo qua eccolo qua il dax invece lui ha rotto questa resistenza e adesso rischia di andare a prendere come prossimo target eccolo qua che lo vado a mettere lo metto qui questo minimo fatto il il minimo fatto il 15 di giugno a 11.594 per il momento vedete che le medie sono rivolte verso il basso il Nikkei ieri ho preso lo stop un piccolo stop il Nikkei è una fase di per il momento possiamo dire laterale il trend sembra ancora low per il momento vediamo affinché non rompe questo supporto a 20.000 quanto è 23.254 per il momento rimane ancora tutto long io vi ringrazio vi auguro a tutti una buonanotte e ci sentiamo domani ciao a tutti ciao a tutti